Questo è un momento particolare dal punto di vista geopolitico, come è stato anche accennato dagli altri conferenzieri. Dobbiamo mettere in sicurezza i nostri interessi strategici e quindi le rotte, i nostri mercantili, i pescherecci, le stazioni di estrazione di gas e petrolio. Così come dobbiamo difendere il nostro mare dagli attacchi di inquinamento che sono presenti. Noi controlliamo assieme alle guardie costiere quella che è la situazione ambientale, troviamo spesso di tutto in mezzo al mare e anche sotto il mare, perché noi abbiamo la capacità di andare anche sott'acqua a parecchi metri di quota e purtroppo la plastica è presente anche lì, la plastica e la microplastica. Così come dobbiamo ridurre l'impatto degli agenti inquinanti dei combustibili. Quindi è un'attività di educazione e di protezione di questo ambiente che di fatto per noi è un ambiente di ragione di vita, ma per l'Italia è fondamentale per la sua economia e la sua prosperità.